Non è così malandata come sembra, sì è giusto che si lamentano, pagano le tasse il 30% in più delle altre, ma tieni presente che Roma ha 8.700 km di strade, Milano ne ha 1.700, con i contributi che ha Roma oggi è quasi impossibile, ecco perché ha aumentato il debito fino a 16-17 miliardi, perché avrebbe bisogno come seconda capitale più grande d'Europa di finanziamenti, il problema è che Parigi, Londra e le grandi città sono considerate come le capitali e vengono considerate come capitali. Qua no, qua hanno aumentato il debito su cui si accorga.